Buona giornata da Ninko Schiodetto, previsione per la giornata di martedì. Partiamo come sempre dalla sinotica a livello europeo, possiamo notare il vasto campo di alta pressione sbilanciato dalla Spagna e dalla Francia verso l'Europa nord-orientale. In cut off il minimo di bassa pressione, eccolo qui tra le estreme regioni meridionali, il Marionio e la Grecia. Nel dettaglio quindi, in sintesi, la mappa focus precipitazione Italia con il bel tempo al centro nord, assenza di piogge, mentre i fenomeni che si attarderanno su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In sintesi, questa mappa dell'Italia meglio ci fa capire con chiarezza quello che succederà. Il campo di alta pressione al centro nord e sulla Sardegna, tanto sole, cieli tersi, aria pulita, mentre Puglia, Basilicata, Calabria, Cilento e Sicilia saranno a rischio occasionali, rovesci o temporali, specie durante il pomeriggio. Ulteriori dettagli approfondimenti scaricando l'app di TrabiMete oppure visitando il nostro sito web.